Buonasera, prima di tutto volevo dire che questo documentario che abbiamo visto è molto bello, restituisce proprio la pienezza del pensiero di Perilli in un modo sintetico ma straordinariamente efficace. Anche le immagini sono montate con una progressione storica molto chiara, quindi sono contento di averlo visto, ma volevo dire semplicemente che io ho conosciuto Achille Perilli nel 1964 quando Maurizio Sagripanti stava affrontando uno dei suoi, stava facendo uno dei suoi progetti storici, il progetto per il teatro di Cagliari e il suo interlocutore per quanto riguarda l'arte, interlocutore fondamentale, era diventato Achille Perilli che aveva sostituito un altro interlocutore precedente che era Mario Maffai. L'altro anno c'era al max una mostra in cui uno spazio dedicato al Peugeot vedeva due tele, una in bianco e nero che è stata eseguita da Fabrizio Figgeri e un'altra a colori in cui un pittore aveva tradotto in quadro una fotografia di Oscar Savio del modello del grattacielo Peugeot, di cui esisteva anche lì sulla motta, c'era un reperto non restaurato. Quel quadro era di Maffai e Sagripanti non lo fece mai circolare ai tempi del concorso. Mi ricordo che quando affrontò questo progetto al teatro di Cagliari, che era questa grande macchina cinetica in cui gli elementi del soffitto e del pavimento si muovevano terremotando lo spazio e dando luogo a una molteplicità di assetti spettacolari, l'involucro era però rimasto un involucro statico. Mi ricordo che il passaggio da questa scatola, molto rigida, ha questo involucro trasparente di strutture metalliche, credo sia stato proprio effetto delle discussioni che Achille e Sagripanti facevano fino a tarda notte, io ero un giovane che era appena entrato lì, quindi ascoltavo rapito queste conversazioni che si addentravano, poi partivano dall'architettura e si addentravano in altri territori. Ma credo anche che all'inverno verso Achille e Perilli abbia assorbito in questa esperienza con Sagripanti quel senso dello spazio che troveremo poi nel periodo cosiddetto geometrico, l'ambiguità della visione prospettica che può arretrare o avanzare, l'ambiguità fondativa anche dello spazio architettonico, che è qualcosa che noi possiamo oggettivamente misurare ma che nell'esperienza vitale non riusciamo a misurare, quindi c'è questa sproporzione tra costruzione geometrica e invece effetto che è lo spazio a fare nella nostra mente. C'è anche un'altra cosa di un certo interesse, in quegli anni Bruno Zevi aveva cominciato una guerra spietata all'insegnamento del disegno del vero delle facoltà di architettura, l'aveva praticamente eliminato e al suo posto ci fu questa invenzione dei corsi di visual design e Sagripanti pensò di affidare a Achille Perilli e Gastone Novelli lo spazio interno al suo corso dedicato a questo insegnamento e quindi Achille e Gastone fecero un'esperienza memorabile, coadiuvali da un certo numero di allievi interni che eravamo noi, Mario Seccia, c'ero io, c'era Paolo Martellotti qui e aiutammo Achille Perilli e Gastone Novelli a portare a termine questa esperienza che era molto bella, in cui stranamente Achille rimase sul piano del segno e Gastone Novelli che in quegli anni ha scritto un pezzo bellissimo, una pittura procedente da segni, aveva inventato una esercitazione di volumi per cui sulla circolare si vedevano gruppi di studenti che entravano in questi poteri, un'immagine molto bella, invadevano un po' la città. Perché è stato importante Achille per, non solo per me, ma per molti altri architetti della mia generazione? Perché intanto ha potentemente influenzato il nostro immaginario, cioè ci ha avvicinato alle problemi dell'arte, è stato lui tramite Sacripanti il nostro, diciamo, ponte verso, diciamo, non soltanto la necessità che l'architetto conosca l'arte, è qualcosa di più proprio di concepire l'architettura come una forma d'arte. Io lo debbo a Sacripanti e in gran parte ad Achille. Poi ci ha fatto che vede un'altra cosa molto importante, che l'arte è un campo di conflittualità. Quindi impegnarsi nel comprendere l'arte significa entrare in un tessuto infinito, labirintico, si è già detto, di contraddizione, tradizione, di conflitti che non hanno mai soluzione. S'attrebbe di spostare in avanti o indietro, diciamo, il livello della discussione e dell'impegno anche. Mi ricordo, per esempio, sarebbe bello, se avessimo tempo, misurare la posizione di Achille Perilli, per cui l'avanguardia è una specie di forma simbolica dell'arte del Novecento, cosa che non è così condivisa da tutti. La risposta che lui dà con la sua arte, con il gruppo altro, con ciò che dice, è per esempio la politica culturale di allora di Argan, che invece si muoveva verso un fronte più rigidamente progettuale, in cui promuoveva tutte quelle espressioni che quantificassero in qualche modo il tipo di impegno, in vista di una socialità sociologica, potremmo dire, anzi voglio usare, una socialità che aveva molto sociologismo, addirittura Argan sosteneva in progetto e destino che l'architettura sarebbe sparita, assorbita dall'urbanistica, quindi per esempio era la morte dell'architettura. Così anche l'arte in fondo finiva per estinguersi nei meccanismi dell'arte cinese, dell'arte programmatica, dell'arte come progetto. Io ho ammirato in quegli anni anche la capacità di Achille invece di rivendicare sempre il primato dell'immaginazione, del rischio. Cioè l'arte come in fondo. C'è un tema, sì, ma tu quel tema ogni volta lo metti in discussione fino in fondo e produce infiniti varianti che sono sempre portare al limite un discorso in cui non riesci a distaccarti dalla tua vita. Quindi la ricerca della forma, ma anche una sorta di vitalismo straordinario, potentissimo che traspare anche molto evidentemente da ciò che abbiamo visto nel documentario. Un altro ultimo aspetto che ci ha insegnato, un problema anzi che è dell'arte, non solo contemporanea, moderna e contemporanea, ma sempre il contrasto fra talento e idea. Cioè fino a che punto il talento conta, fino a che punto il talento ovesista va disciplinato e anche distrutto e sostituito da una costruzione diciamo più premeditata, che abbia dentro una volontà di espressione che considera l'idea ciò che trasforma la realtà e non viceversa. Cioè noi le idee non le assumiamo da ciò che succede nella realtà, ma sono le idee che fanno succedere, che producono le trasformazioni. Ma come si costruiscono le idee? Come si costruiscono le idee in rapporto al talento? E tutta la pittura di Achille oscilla fra queste polarità. Ad esempio nel periodo geometrico nasce in lui, prima non c'era, una straordinaria vocazione coloristica. Il mondo del colore di Achille è veramente straordinario, perché c'è una scelta timbrica con le punte di dissonanza, di acidità, ma anche ogni tanto diciamo il perdersi dei colori, una sorta di notte dove i neri confuiscono con i viola scuri, eccetera, con delle vibrazioni acide a un certo punto. È un colorista fantastico che ovviamente va contro questa essenza, non chiamiamola geomeria, ma diciamo costruttiva della forma che è qualcosa di diverso. Quindi c'è una contraddizione vivente che anima tutta la sua produzione fino all'ultima cosa. L'ultima notazione è che quando lui parla di negazione dello spazio prospettico non può non venire in mente la tridimensione d'antiprospettica di Bruno Zevi. Negli stessi anni in cui Achille teorizza con la sua spazialità, Bruno Zevi scrive nelle sette invarianti del linguaggio moderno proprio qualcosa che riguarda la negazione della prospettiva. In qualche modo questa realità dell'avanguardia si configura in una sorta di vocazione violenta alla distruzione dello spazio, ma la distruzione dello spazio implica anche la distruzione del tempo, quindi queste opere tendono a collocarsi in una dimensione non spaziale, non temporale, come grandi totem, come dire, dietro il cui colore straordinario c'è però una minaccia. Ecco, io vedo queste opere di Perilli al contrario di come molti le vedono, come grandi tessuti diciamo formali, anche con un forte olio decorativo. In realtà questa zerarsi di spazialità e temporalità li fa emergere come totem che invece raccontano qualcosa di più drammatico in cui si restringe praticamente e si condensa tutta la, diciamo, la dialettica che ha attraversato il Novecento fra individuo massa, forma e vita, eccetera. Quindi è una pittura molto profonda, la cui profondità però non è mai esibita, ma anzi accuratamente è nascosta. Grazie. Se c'è Nagia Perilli, se vuol chiudere la serata, ricordo anche la bellezza di questi cantucci poetici riservati a un Attile Perilli che parla ormai, ha preso quasi il tono di Ungaretti quando faceva le proprie comparse nelle puntate dell'Odissea e aveva la stessa voce Rocca, eccetera. Questo mi è piaciuto moltissimo. Nagia. Allora io dico solo due parole perché non dovevo intervenire in realtà. Comunque ringrazio tutti e concludo come ho concluso sul documentario, cioè le opere di mio padre andranno sicuramente su Marte. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi che siete intervenuti, grazie a tutti gli ostipi straordinari, al nostro Presidente, all'ex Presidente.